Ti presento, ti presento la ragazza, la donna, te ne presento due, ma sei tu che mi dici? No, 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 uno che mi presenta, uno già non mi va su, non tu. Guarda, come dicevo, pure Maggi sta storia, me l'ha fatto a dire. Ho capito, ma ognuno ha fatto a modo suo. Ma scusa un attimo, Gianluca, mettiamo che su tutti i single. Ho capito, ma se non c'è che a me, a me non c'è che a me, non la padezione, non ti piace. Mi sembra il mare, poi il turistico ti porta, ti mostra 10 dollari, 6 di 1. E uno come è facile, non in questo modo. Io dico, vieni, mangiamo insieme, vieni un'amica a pranzo, come si fa molte volte di te, la conosci di Sirita e si scherza. Poi la sarà dopo un'altra? Poi se non gli piace sarà dopo un'altra. Dopo 10 gli dico, basta, finito, perché il problema è tuo. Facilissimo, no? Chiaro, no? Tu che riprendi? Queste sono filosofie di vita molto segrete, che non devono uscire fuori dalla grotta. Capito? Perché lui dopo un po' alla grotta, le ciglie le aggrotta. Le tagliamo, le tagliamo. Guarda, le tagliamo, sì. Anzi, tanto ti bagniamo. No, ma riprendi lei che c'è una faccia un po' sconvolta e dice che sto su Tinton Galaxy. Ti intonghi. Ti intonghi.